Buonasera, buonasera, ciao ragazzi sono Super7 Benvenuti in un'altra nuova puntata della carellata della Serie A E oggi siamo con un'altra nuova puntata domenicale appunto di fine settimana Che come al solito ci andremo a riassumere le due giornate di questa settimana La quinta e la sesta Allora io direi di iniziare con la quinta Partiamo subito con la quinta giornata di Serie A In cui andremo come al solito a riassumere tutti i risultati che ci ho scritto come al solito in questi foglietti Allora, quinta giornata Bologna Genoa 2 a 2 Adalanta Sassuolo 2 a 1 per l'Atalanta Fiorentina Inter Vittoria per l'Inter per il 3 a 1 Salernitana Verona 2 a 2 Spezza e Juventus 3 a 2 per la Juve Infatti conquista la prima vittoria stagionale in Serie A Dopo due pareggi e due sconfitte Milan-Venezia 2 a 0 per il Milan Cagliari-Empoli 2 a 0 per l'Empoli Sampdoria-Napoli 4 a 0 per il Napoli Toro-Lazio 1 a 1 E Roma-Udinese 1 a 0 Bene, adesso passiamo subito a riassumere i risultati di oggi Della sesta giornata di Serie A Quindi partiamo con Spezia-Milan Spezia-Milan 2 a 1 per il Milan Inter-Atalanta 2 a 2 Genoa-Verona 3 a 3 Juve-Sampdoria 3 a 2 Altra vittoria bianconera appunto per la Juve Che conquista un'altra seconda vittoria stagionale E poi passiamo all'Empoli Empoli-Bologna 4 a 2 per l'Empoli Sassuolo-Salernitana 1 a 0 per il Sassuolo Udinese-Fiorentina 1 a 0 per la Fiorentina Derby della Capitale Lazio-Roma 3 a 2 per la Lazio E poi Napoli-Cagliari Che è appena finita la partita Napoli-Cagliari 2 a 0 per il Napoli A seguire domani sera Dove si concluderà la stessa giornata di Serie A Domani sera ci sarà Venezia-Torino Infatti alle 20.45 E se volete ragazzi magari lanciare un pronostico qua sotto nei commenti Quindi se volete fare un pronostico di Venezia-Toro Scrivetelo qua sotto nei commenti Perché di solito andando a vedere i video precedenti della cannellata della Serie A Di solito vedo che mi avete fatto complimenti Mi avete fatto complimenti per la serie che sto portando qua sul mio canale per la seconda volta Comunque se volete lanciare un pronostico per domani sera di Venezia-Toro Basta che scrivete qua sotto nei commenti Comunque Comunque ragazzi la puntata finisce qui Ho riassunto i risultati della quinta e della sesta giornata del nostro campionato Io direi che può bastare così E quindi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace Commentate Iscrivetevi al canale Fate tanti Iscrivetevi al canale Mettete la campanella Quanto spesso è tutto E noi ci vediamo al prossimo video Con un'altra puntata della cannellata della Serie A Ciao alla prossima